Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Litto e benvenuti su Kingdom Hearts Union Cross. Questa mattina, 9 ottobre 2017, abbiamo ricevuto una serie di contenuti in update e andiamo a vederli immediatamente perché c'è veramente tanto di cui parlare. Allora, parliamo del fatto prima di tutto di Union Cross. Ci sono state delle aggiunte per quanto riguarda Union Cross, nel senso che è arrivato il nuovo evento, durerà una settimana e potremmo ottenere tutte quelle medaglie che appartengono, diciamo, tra virgolette, agli eventi passati. Quindi, ottimo per chi le vuole andare a recuperare per riempire l'album, per fare, insomma, per completare l'album. Ottimo anche per chi ne ha bisogno di queste medaglie, ma probabilmente sarete veramente in pochi perché sono tutte medaglie che dal punto di vista del gameplay sono depercate, essenzialmente, cioè non sono più forti. Ma un'altra cosa che è fondamentale di cui parlare, ragazzi, è il Nova, perché se non avete ancora ghiltato tutte queste medaglie, sicuramente è del Nova gratis. Adesso vi faccio vedere, queste sono le medaglie che si possono ottenere. Kingdom Hearts 3D Rock, Sora, 3D Riku, Meow Wow, Seven Dwarfs, dato che erano veramente tanti, magari questa è un'altra buona occasione. Playing Cards, Queen of Hearts, Halloween Sora, Christmas Sora, Flaubert, Meow, Young Sora, Young Riku, Young Kairi. Alice and Cheshire Cat, Pubert, Judy and Nick, Classic Donald, ottimo sicuramente per tutti i giocatori che arrivano adesso nel gioco, King Lui, Mowgli e Mbaloo e Sora e Riku e Meow Wow, che è la versione della fusione. Non so se questa si può ottenere, ho semplicemente citata perché appunto si può fare fondendo le tre di Kingdom Hearts 3D, ma se si può ottenere, molto molto meglio. Ci dice che gli orari per andare a farmare i boss sono sempre i soliti, ma se andiamo a farmare, adesso ci arriviamo qua, nei 15 minuti iniziali di quelle due ore che per noi sono veramente inaccessibili, sono sempre quelle quindi dalle 4 alle 5 di notte e dalle 8 alle 9 del mattino, se non lavorate è ottimo, oppure se non dormite è ottimo, per tutti gli altri è ovviamente un problema. Per i primi 15 minuti sarà possibile ottenere una Rare Past Event Medal, quindi una medaglia degli eventi passati rara, che sono appunto queste qua come potete vedere, quindi sono praticamente le altre, sono le medaglie dell'evento che sono diciamo le più ricercate, perché penso che siano tutte tier 3, ma non vorrei dire una stupidata. Dunque parliamo dei set, vabbè, un Magic Mirror Set, due Magic Mirror Set, tre Magic Mirror Set e un Magic Broom Set. Se mi avete ascoltato ragazzi siete partiti questa settimana dal Magic Broom Set, bravi, perché sicuramente vale più la pena andarsi a prendere il Magic Broom, altrimenti lo sapete per questa settimana, partite da lì e poi andate a prendere gli altri, perché il Magic Broom stanno veramente diventando tanti e averne uno alla settimana non è assolutamente male se siete free to play. Passiamo alla prossima notizia, Illustrated Donald B High Score Challenge. Ve l'avevo detto in live che sarebbe arrivata questa High Score Challenge, per fortuna ci ho preso, quindi non ho detto stupidate. Ragazzi, per questa settimana avremo la High Score Challenge di Illustrated Donald B, ovviamente ci dice che tutti coloro che saranno in grado di essere tra il primo rank e il millesimo otterranno una versione boosted di Illustrated Donald B, che è un'ottima medaglia per quanto riguarda il danno, ma adesso ne parliamo immediatamente. Allora, è tier 6, upright, colpisce random, quindi ovviamente magari se dovete colpire nemici specifici potrebbe darvi problemi, ma se siete contro un nemico singolo va comunque molto molto bene. Magic, random, upright, costa 3, colpisce con 11 colpi di eccezionale potenza e aumenta la magic strength di 5 tier per un turno. Diciamo che, se vogliamo, è la versione Lingering Wheel Magic, se proprio vogliamo, ed è veramente, veramente un'ottima medaglia anche perché il moltiplicatore, adesso qua non riesco a mostrarvelo immediatamente, però sappiate che è un'ottima, ottima medaglia anche dal punto di vista del danno. Per quanto riguarda le medaglie che aumentano il moltiplicatore, la percentuale del moltiplicatore, abbiamo Shioni X, Axel X, ma adesso ne parleremo perché appunto fa parte del banner che è uscito oggi, Lion King's Roar, quindi Simba, se avete pullato dal Falling Prize Deal, bene se l'avete trovato, e poi le medaglie appartenenti agli altri banner passati assieme a Final Boss Shion. Mi aspettavo qualche medaglia in più in realtà, però sicuramente dato che è la prima medaglia che rivoluziona un po' le High Score Challenge, questo Illustrated Donald, è probabile che vogliano cercare di renderlo un po' più elitare, ma adesso vi farò capire immediatamente di che cosa sto parlando. Ci torniamo tra un secondo, vi faccio vedere immediatamente prima questo, perché penso che sia la cosa più importante di tutte le news che abbiamo ricevuto oggi, ma capirete immediatamente anche voi il perché. Dunque, passando dagli events e passando dalla High Score Challenge, che purtroppo ragazzi non sarò in grado di affrontare perché non ho le medaglie corrette, però questo non vuol dire che non potrò andare a fare gli obiettivi per andarmi a prendere queste cose che sono ovviamente molto utili. Se andiamo a vedere ragazzi, nelle rewards c'è un cambiamento sostanziale per quanto riguarda come ci vengono, no, non nelle rewards, nel ranking, nel come ci vengono date le medaglie che otteniamo come premio. Se vi ricordate, nelle scorse High Score Challenge ci venivano date due medaglie extra rispetto alla medaglia che otteniamo, il che può essere una cosa positiva per qualcuno, ma in realtà era molto negativa per quanto riguardava il lato del trade roll. In questo caso ragazzi, finalmente otteniamo una, due, tre, quattro, più insomma quella che abbiamo visto dall'altra parte, e la versione base, quindi sono cinque medaglie di Donald, quindi sono quattro trade roll invece che due. Ottimo ragazzi, perché questo vuol dire che possiamo provare ad avere qualcosa di migliore. Non è detto ovviamente, però se arrivate in top 1000 non solo riceverete una versione boosted, ma avrete una possibilità in più di andare a rollare un trade roll. Avere un trade roll come extra tax, uno come Donald, ma anche dei trade decisamente offensivi vanno bene, quindi tutti quei trade come ground, aerial, strength più 1000 vanno comunque bene. Dipende tutto dal keyblade che volete utilizzare voi, non posso ovviamente sapere precisamente il vostro setup. Voi lo sapete meglio di me. Questi in generale sono però i trade che ci vedrai su. Torniamo alle notices e parliamo di close handed captain daily raid event. Questi ragazzi sono i soliti raid event. Per noi è dalle 9 alle 10, mi pare, l'orario per andare a farmarlo. Praticamente ogni giorno si presenterà la board e il boss dalle ore 9 alle ore 10 e completandolo assieme al vostro party, quindi andando a farmare le board, sarà possibile andare a prendere gioielli, magic mirror, chip, dale e seed. Ovviamente la board che si ripropone è sempre la stessa, se siete bravi lo fate in una serata, altrimenti non disperate, avete una settimana intera per farcela. Sicuramente però senza l'aiuto di un party che gioca molto bene potreste fare fatica, ma credo che chiunque comunque dovrebbe essere in grado di arrivare fino in fondo a fine settimana. Parliamo della weekly gem quest. Questa si è riproposta finalmente ragazzi, quindi è garantito che le gem quest continueranno a ruotare molto molto bene per chi le va a cercare. Ragazzi, è la solita missione della gemma, questa settimana abbiamo una magic gem. Vi farò vedere il mio setup in live, però insomma non è niente di che. La strategia è la solita rispetto a quella della settimana scorsa. Basta arrivare al boss finale e fare una completa rotazione e far sì che l'ultimo attacco sia l'ultimo del contatore. Così con Second Chance numero 2 o Second Chance numero 1 sarà possibile ritornare in vita e andare a sistemare il boss senza problemi facendo un secondo turno. Axel Art EX Falling Price Deal. Dunque è la versione riproposta di Axel EX con dei drop rate decisamente migliorati, quindi se è la medaglia che fa per voi, ma secondo me potrebbe non valerne troppo la pena, anche se comunque è un'ottima medaglia, allora ragazzi andatela a cercare. Ottimo sicuramente per tutti coloro che stanno andando magari alla ricerca anche di un trade troll, allora quel punto molto molto bene, altrimenti ragazzi è un Falling Price Deal poco conveniente dato che ci dà una tier 4 o superiore. Cose da considerare bene sicuramente sono che i drop rates sono migliorati, quindi fate un po' i vostri conti. Io non lo consiglio, per me questo ragazzi è uno skip perché di Axel Art EX non ne ho bisogno, o perlomeno lo voglio lasciare sicuramente un po' da parte. Sto risparmiando per le medaglie che usciranno da qui a breve, quindi sappiamo Riku EX, dopodiché Marluscia EX e dopodiché si passerà direttamente alle tier 7, quindi attenzione ragazzi, potrebbe valer la pena risparmiare un po', anche perché sappiamo che dopo con le tier 7 che cosa ci aspetta. Andiamo avanti ragazzi e parliamo dell'ultima news di oggi, che è non solo il set di missioni VIP per questa settimana, che comprende le 6 gemme, i 7 Magic Mirror, Chip and Dale giornalieri, tutte le varie cose che si possono ottenere a livello di esperienza e di evoluzione di medaglie, quindi tutto quello che vedete a schermo praticamente è fatta la missione una volta, siete a posto per un anno. Le skill quests ottimo per chi vuole andare a livellare magari dei defense boost o qualcosa di questo tipo per le high score challenge e dopodiché ragazzi ci viene introdotto anche qua da qualche parte che siamo in un momento di zero IP, però stavo cercando... Ah, dunque per questa settimana abbiamo anche uno zero IP, quindi se volete andare a farmare tutti questi materiali è ottimo per voi ragazzi, sicuramente se andate ad investire questa settimana in un VIP perché avete bisogno di medaglie evolutive di questo genere è ottimo ragazzi, quindi non c'è molto molto altro da dire. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento facendomi sapere se soprattutto vi piace questo tipo di raid e se andrete a prendere questo VIP grazie allo zero IP event. Ragazzi, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina perché spesso facciamo anche delle live ed è bello che siate veramente in tanti e vi piacciono veramente tanto perché sono in arrivo anche delle sorprese solo per le live, quindi assicuratevi di aver cliccato anche la campanellina per non perdervele e ragazzi noi direi che ci rivediamo in un prossimo video riguardante Union Cross. Alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao!